Ciao a tutti sono Spieghera Montato e benvenuti ad un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Techcraft, siamo alla puntata 28 e dobbiamo muoverci perché oggi ho meno tempo delle altre volte quindi uscirà probabilmente la puntata più corta rispetto ai soliti 40 minuti. Quindi uscirà una puntata da 30 minuti massimo perché siamo agli sgoccioli per un problema che c'è stato insomma si è quasi bugato il mondo, ho dovuto fare un casino ed è passato il tempo. Comunque oggi abbiamo un progetto abbastanza importante da fare, lasciamo in pace, lasciamo stare tutte le mod perché diventi nera, io non sono nazista però, quello che intendevo è, lasciamo stare tutte le mod che abbiamo utilizzato nella puntata scorsa, a proposito voglio vedere una cosa, oh yeah, iniziamo la nuova mod, si tu non mi servis più però, la nuova mod servirà per darsi una armor visto che questa per finire comunque è un po' una cagata, useremo la power armor, la power armor è abbastanza semplice, perché la sto facendo? Perché ho trovato un emerald, yeah, adesso ve lo faccio, scusate, ehm, aspettate un attimo, ok, allora dicevo, non mi ricordo più, ah sì, power, ecco qui, la power armor, faremo la power armor perché è molto comoda, ehm, ah sì, 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 ecco, è perché ho trovato un emerald che è una, come si dice, un ingrediente della ricetta, ma perché dovrei fare questa io? Electronic circuit e machine block, quando posso usare quattro fotutissimi lapislazoli le quattro fotutissimi iron ingot, ah, per la cronaca, se, intanto me ne sarei dimenticato, ho messo, eh, resaver e transmitter nella farm di, eh, di, 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 bone, insomma, di scheletriff, eh, niente, iniziamo subitissimo, il crafting è molto semplice, però non è, non è come sembra, come vedete, questi qua sono abbastanza semplici da fare, però adesso lo vedrete, eh, non è niente come sembra perché, allora, innanzitutto questa è l'emerald, il sacro emerald, poi quattro lapislazoli, o lapislazoli, abbiamo lapislazoli, yes, lapislazoli, eh, no, ne volevano, ce ne volevano quattro, e poi prendiamo l'iron, la mettiamo così, questa praticamente è la, si dice, eh, è una cosa che serve a, a programmare la nostra armor, come vedete mi sono rifatto il set completo perché ho dovuto cancellare l'inventario per sbaggare il mondo, ora facciamo le, le varie parti del, dell'armor, si fanno con, ah, due gold nugget e una redstone, oddio, non ho ancora riacceso la gold farm, credetemi ce ne servirà, ok, redstone, mettiamo qui, ora ne facciamo tipo uno stacchino, ok, e facciamo allora, prima cosa l'elmetto, l'elmetto, si, iron, ah, elmetto fatto, poi la cosa, il torso, come lo solito, ah, si, guarda, come era, oh, senti, fa più, ok, gambari e i piedi, due iron e due bla bla bla, facciamo così, mettiamo questo, e hopla, fatto tutto, questo lo possiamo buttare, ci serviranno più in là, allora, ci leviamo questi e mettiamo questi, ah, a parte il fatto che, parliamone, è abbastanza figa così, ma per adesso non ci dare a nessuno utilizzo, cioè non servirà a niente, a meno che non inizieremo a usare questa, guardate che sposto un po', ecco il cavo del mouse, che ho l'aggegino che tiene il cavo alzato però, era messo troppo in avanti, ma dettagli, come vedete adesso qua sono apparsi i vari, i vari componenti dell'armatura e noi possiamo, potremmo aggiungere delle cose, upgrade o a darli in pratica, per esempio noi vogliamo, eh, che quando cadiamo non, vogliamo non farci male alla, eh, non fa, vogliamo non avere il danno da caduta, ok, innanzitutto dobbiamo mettere le batterie a tutto questo, ehm, basterà cliccare e vi dirà cosa serve, in questo caso per fare una Elite Battery serve un, eh, HV Capacitor, eh, noi lo cerchiamo qui, HV Capacitor, ed una cacchiata da craftare, Enderpearl, Glass e Glowstone, ah, che palle, Enderpearl, Glass e Glowstone, e poi due di quei, così, di cui non ricordo il nome, allora, ah, ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto, ecco, ti qua, ne facciamo, sì, ne facciamo quattro, due, così lo facciamo per tutta la tuta, ed è molto semplice da mettere, basterà cliccare qui, con i pezzi che dovevamo fare nell'inventario, ah, si possono, allora, vedete che sono nell'inventario, noi calcheremo qui, diciamo, vogliamo installare questa, Energy Sealed, no, scusate, volevo dire Elite Battery, cosa costa, quanto costa, una HV Capacitor, High Voltage Capacitor, clicchiamo install e ce l'avrei installata, noi l'aumentiamo tutta, e quando aumentiamo le cose, ci aumenterà il peso, eh, il peso verrà a gravare su alcune cose, però adesso non ci interessa ancora, perché comunque non stiamo ancora mettendo il modulo per volare, ma, vi anticipo che più appesantiremo la tuta, più sarà difficile volare, cioè, in questo caso, per esempio, ho fatto in tutto 40 kg, eh, perché sono 10 kg per ogni cosa, per commessa la batteria al massimo, e infatti, eh, dopo vi farò vedere che non riusciremo a volare mai, quindi, vabbè, iniziamo, va bene, lasciamo così, la prossima cosa che volevo fare è mettere un, eh, un jetpack, servono 4 ion, ion o qualcosa, ion thruster, vediamo come sono, insomma, abbastanza complessi, non complessi, eh, incasinati, qui mi sa, ci toccherà accendere la farm di gold, eh, bene, sì, no, non ho anche fatto caricare il mondo, che bravo bambino, perché non corre? ah, è questo, ecco, vediamo già i rallentamenti, the fuck, smettila di fare così, perché fa così? accendiamo, andiamo a vedere se cadono, ok, è receso la farm di gold, così non avremo un problema, allora, facciamoci altre, hm, altre gold nuggets, in modo tale da fare altri wiring, perché credetemi, in questa modo ne servono veramente, ma veramente tanti, perfetto, ne ho fatto 63, no, era così, più o meno, let's own, ok, no, allora, smettila, smettila, ok, prima di finire la redstone, come mi è già successo un bel po' di volte, la mettiamo a posto, servivano degli ion thruster, 4 ion thruster, quindi dobbiamo fare, ehm, 8 force field, eh, quindi, 8 qua per 5, 40, sono 40, poi, 48 di questi, 48 di questi, 48 di questi, 48 solenoid, dobbiamo fare, ok, ehm, 48 solenoid, sì, in effetti sono un pochino molti, molti, ma che cazzo, iron, sì, faccio così perché li voglio fare giusti, spero che ci basta nel wiring, sennò, merda, devo starmi zitto, vabbè, ha acceso la farm, dovrebbe, ok, non sta producendo molto, strano, very shitty, strano, retton, ok, facciamo così, così, ehm, no, non ho messo niente in più, tu vai lì, ok, quanti erano, 48, ok, ora possiamo mettere a posto questa roba, vediamo, il ferro ci dovrebbe servire ancora per fare questi, no, mamma mia, quante pallozze, devo fare 8 di questi, quindi, mamma mia, 32 enderpearl, 32, 31, vabbè, merda, mi serviva, sì, dove stanno alla fine il gold, mi sa che ci toccherà lasciarla accesa e stare un po' faccia, ah no, vabbè, abbiamo dei diamanti, il che è tutto dire, minimum stone, ok, brazzo, che cosa ho fatto, sono un coglione, sono un emerito coglione, ho fatto una cazzata, devo trasformarlo in iron, ok, facciamo così, the fuck, minimum stone, ok, un po' di iron ce lo siamo fatti, dai, non so se ci, non credo ci basti, però, ma no, ci serve ancora questo, quanti erano, 32, ma è vero, l'enderpearl, per chi non sapesse, ehm, merda, ho perso il conto, 26, per chi non lo sapesse, ehm, si possono impilare per un massimo di 16, e non 64, come tutti gli altri blocchi, vabbè, a nessuno interessa, dai, basta, allora, dovrebbe tornare il conto, facciamo così, così, queste dovrebbero avanzarne, spero, ok, bravi solenoid, abbiamo fatto lì, force field emitter, allora, li mettiamo qui, li mettiamo glowstone, erano così, un pezzettino di glowstone, dobbiamo andare a prendere glowstone, assolutamente, ma non ora, non ci interessa, e due iron, vediamo un po' se abbiamo, oddio, a corto di iron, cosa manca? Ah, sbagliato, ok, abbiamo fatto i nostri quattro iron, ion, trust, come li volete chiamare, che servivano per il jetpack, installiamo, mettiamo al massimo, vediamo un po' se riusciamo a volare, adesso andiamo lenti, ma poi, sì, vogliamo, no, 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 come vedete, non è un vero jetpack, non è molto comodo per volare, però, vabbè, stiamo volando, quindi, un'altra cosa che ci serve, shock absorber, che serve, in pratica, a tutti i ricolti, in modo tale da non prendere nessun danno da caduta, quindi, due servomotor e due wall, due servomotor, servomotor, ok, sono abbastanza, wiring, solenoid, due wiring, no, un wiring, due solenoid, che palle sti solenoid di merda, sì, ce la posso fare, un wiring, due solenoid, abbiamo fatto i due servomotor e poi ci serviamo due wall, per fortuna ne abbiamo un po', ok, andiamo nei piedi e le diciamo, ammettemi lo shock absorber, lo metto al massimo, anche se, ora non avremo tanta carica, però, come vedete, stiamo appesantando, perciò diventerà sempre più difficile, come vedete, non prendiamo danno, eh, diventerà abbastanza difficile volare, come vedete, stiamo ancora allentando, tra l'altro, andiamo un po', sprint assist, ok, perfetto, 4 servomotor, non ce la vaggiamo, a meno che non lascio la farm di gold un pochino, ma perché sta producendo così poco, cold, dopo la controllo, deve fare, quanti servomotor, scusa, sac, eh, questo, sprint assist serve per andare più veloci, insomma, 4 servomotor, razzo, razzo palazzo palazzo, preparato, quindi, 8 solenoidi, quindi, 21 pezzi di ferro ce li abbiamo, ok, vediamo se ci bastano i wiring, incrociare, si, ci bastano, eh, si, mi servi, 2 solenoidi, yes, diciamo, aumenta la velocità subito, adesso sto mettendo tutto al massimo, poi vedremo, come vedete, stiamo andando leggermente veloci, ok, veri scetti, come vedete è comodo, eh, sì, 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 mi piace, ah, finalmente andiamo veloce, perfetto, possiamo anche fare la nanna, fatemi vedere un pochino, sì, mamma mia, siamo un po' in ritardo, un bel po' in ritardo, mettiamo un po' a caricare la nostra arma, come vedete, dove c'è scritto energy, 2 punti, ci dice che abbiamo 750 kJ, no, non kJ, scusate, non lo so, insomma, che scarica, dobbiamo arrivare a 5, così la ricarichiamo tutta, e ci uscita il livello di caricamento, cioè, cosa sto dicendo, ok, la sto facendo ricarica un pochino, vabbè, come vedete, forse, no, forse l'ho desattivato, ah no, non ce l'ho indossato, semplicemente, in alto, e qui, ci esce il livello di caricamento della batteria, naturalmente fa la somma di tutte le parti dell'armor, mettiamo anche questi gambali, che sono una parte, sono la parte forse più importante, no, vabbè, non la più importante, però, abbiamo messo tutte le cose più importanti, poi, c'è anche un'altra cosa che mi interesserebbe mettere, e sarebbe un autofeeder, si chiama così, autofeeder, e serve a dare da mangiare, noi mangiamo tipo tutti i pesci, anche se non abbiamo fame, qui, poi lui ce li metterà in automatico quando ci viene la fame, cosa molto utile, come vedete, dice 20M su 20M, ehm, si, vediamo se c'è l'autofeeder, ehm, ah, l'ho visto, autofeeder, siamo, due servomotori e un control circuit, magari, magari no, 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 assolutamente no, night vision ci potrebbe interessare, flight control, quanto costa un control circuit? vediamo un po', ok, un volo, si può andare, se abbiamo un, eh, si, 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 cactus, si, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, dobbiamo solo metterle a, erano, da mettere, bisognava metterle a cuocere o no, si, perda, beh, la fornace ce l'abbiamo, non è quella, non è una delle più veloci, però, vabbè, sta affisciando, beh, ce ne so di più, però, no, facciamo una cosa, innanzitutto ricarichiamoci il cibo, ok, eh, questo poi lo risolviamo, questo è, doveva funzionare, doveva, ok, rifacciamo questa, com'era, ah, due wild, ah, gold, redstone, wilding glowstone, ah, gold, se non sbaglio, oh, si, è un altro gold, e due cactus green, come cavolo si può chiamare, eh, contro il circuit, sac, e le diciamo, flight control, install, si attiva con la zetta, eh, eccomi qua, scusate, allora, sì, è una figata, mettetelo, guardate, ora io mollo, non sto tenendo niente, e sono tranquillamente così, per scendere basta, tenete premuto, eh, la zetta, boom, ok, questa mod è una delle più belle, no, vabbè, lo dico per tutte, vabbè, qualcosa altra di installare non c'è di interessante, perlomeno, vediamo un po', vabbè, sì, dovremmo installare anche, eh, l'armor, cioè, quella, scusate, rutino, dovremmo installare quella che effettivamente, eh, ci dà energia, però, dettagli, andiamo a provare, oddio, quanto è pesante, c'è da, oddio, non si può camminare, cioè, mentre si vola non si può camminare davanti, perché siamo troppo pesanti, lol, vediamo se, si può deviare durante il volo, però, quello che voglio vedere, è, no, scava lento, what does the fox say? Ok, ho sentito un rumore di, mayel pig, pig, mayel, come si chiama, non mi stuzzica praticamente il jetpack di questa, di questa arma, ma, ehi, stiamo volando, i fly, i fly, che cacchio è una compagnia aerea, benissimo, abbiamo fatto un'altra cosetta, molto interessante, ora, vediamo un pochino cos'altro possiamo aggiungere, ma tu cosa sei, watercorer, electrolyzer, non ci serve, non ci serve, tu non mi servi, tu, tu, merci, tu, non capisco, power armor, vediamo un pochino, ecco, questo potrebbe essere interessante, che crea energia, eh, mentre ci muoviamo, però costa un po', eh, non me la sento, poi c'è un jump assist, ecco, questo, si, facciamo un jump assist, 4 servomotor, mi sa che non ce la facciamo, 4 servomotor, vediamo un pochino, solenoid, mh, 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 e un po' se abbiamo collezionato un po' di gold, va bene, un pochino, come si facevano, ah, vabbè, erano accazzate in realtà, solenoid, sono un po' pallosi, wiring, quant'erano, a quanto ammontava, 4, che palle, 8, quindi, tizzica i sembroni, naturali, minimo stone, and, no, tu non mi servi, and, gold, ce la posso fare, ce la posso, va, ok, poi cosa mi serve, per fargli, un cavo, non un cavo, in realtà non è un cavo, così, insomma, perfetto, 4 servomotor, e mettiamo il codo per saltare 2, credito, ci servirà, o no, in realtà abbiamo installato una cazzata, però vabbè, si, mi è stata una cazzata, ecco, questo è un esempio che, per fortuna vi posso fare, se non ci andare sa più questo, calchiamo su salvage, e ci renderai 4 servomotor, che ne potremmo usare per qualcos'altro, per esempio, qua cosa abbiamo, su imboss, no, salutamente, e tu cosa sei, non so cosa sei, perciò non lo farò, non ci interessa, l'abbiamo già messo, paracadute, batteria l'abbiamo già messa, tu non ci interessi, tu l'abbiamo già visto, jet boots, non ci interessa, shock absorber l'abbiamo già fatto, citizen, no, un'altra texture, babababà, non lo so, non so cosa fai, tu cosa sei, google, aurameter, aurameter, non so come si pronunci, beh, diciamo che, non ce ne facciamo niente, e li mettiamo qui, niente unica, ci serviranno, anzi no, li devo metterli proprio, qui, benissimo, ora che abbiamo questa armor, che è abbastanza interessante, ma mi sa che togliamo anche questo, dove sei, no, check pack lo lasciamo, vorrei togliere, macchinetti di generale, quanto costo, no, troppo, non ho voglia, quanto costo, dov'era, 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 voglio togliere, la roba che ci fa restare in volo, tipo, perché non mi piace più di tanto, flight control, oh, perfetto, possiamo mettere un'altra cosa, di quale se non lo ricordo, se non lo genero, fighissimo, questo, yes, hanno due di quei, pneumatic servo, no, servo motor, non scambiamoli con i pneumatic servo, si, kinetic generator install, genera corrente quando noi ci muoviamo, possiamo correre, possiamo volare, non si fermerà più in volo, ma non ci interessa, perché in realtà, mi stavo proprio facendo, incazzare con la storia, e finalmente possiamo fare la farm di questi fiori, visto che ci servono string, ci serviranno string, perlomeno, prima o poi, ora qui cercherò di farla, anzi, magari, accendiamo la farm, visto che siamo qui, come in realtà l'ho messo un po' oscialmente, tipo, what the fuck, oh merda, è vero, oh, senti stronzo, non mi stassare la mia, oh cacchio, farà mettere di conveyor belt, sopra il vetro, oh senti, ah, sei morto, diamo un pochino, spero che faccia perché, aspetta che abbassa il volume che, a me sta facendo impazzire, figuriamoci a voi, eh, fucchiamo, ok, io cado qui, a quanto vi odio, a voi mi dite che vi odio, senti brutta, troia, mi ha fatto spaventare, lo sai? vabbè, ci prendiamo due pezzi di glass, niente, non possiamo accettare che si, ti levi, devo fare manutenzione, come dette, la cosa funziona, vabbè, 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 quella di Gold, l'abbiamo lasciata scelta, vediamo un pochino, si sta rendendo i sui frutti, i sui frutti, ma se noi mettissimo, tipo cobblestone, in modo come al solito, molto shallow, in modo da mettere i conveyor belt sopra, ok, io spawno qui, cosa succede? zac, brutta di una, computer craft, no, 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 ti odio, ti odio, rompiti, 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 no, ti odio, tutto ciò che non conosce, la manda, no, porca vacca, no, io me lo cito, però non è possibile, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, ti odio, ti odio, te l'ho detto, che ti odio, le voglio tutto, ma non è che l'ha messo nell'impianto, io mi ricordo come funzionava, andiamo un po', no, tipo power, no, ti odio, eh no, io me lo cito, scusate ragazzi, me lo cito, me lo cito, me lo cito, a frappe, anzi, non lo faccio con voi, dai, basta, me ne frega niente, allora, aspettate che apro, tipo il video, no, non posso aprire il video, non mi ricordo cosa avevo, porca di quella troia, ender pooch, poch, come faccio si chiama, poi, wireless coso, questo, unlinked, poi lo linko, non me ne frega niente, poi il set di, quello blu, ok, vediamo un pochino, che ne so, shovel, sappire, sapphire, allora, uno, due, no, sbagliato, tu non mi servi, allora, uno, due, tre, quattro, poi cosa avevo, pesci, appena ha preso lo stack, no, ora avevo, no, porca vacca, tutta la cosa, la power, eh no, mi metto, scusate, ma mi metto in creative, perché, perché non lo sapesse, oddio, dicevo, perché non lo sapesse, in creative, si possono attivare, tutte le cose, perché me le mette, al contrario, perché non le ho indossate, ok, ha proprio installato, no, questo l'avevo levato, il solar generator, no, un solar generator, scusate, ah, elite battery, al massimo, poi, autofeeder, no, airwater, no, questo no, poi, no, elite battery, al massimo, eh, jetpack, al massimo, questa roba non c'era, eh, kinetic generator, l'avevo messo, poi, elite battery, al massimo, poi, ho messo, sprint assist, al massimo, poi, ho messo, jump assist, ma l'avevo tolto, eh, questa roba non ci serve, shock absorber, ok, elite battery, ok, altro no, eh, l'ho messo, sì, 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 l'ho messo, ok, eh, vabbè, almeno la carica, la faccio, eh, no, scusate, ma non posso, non posso accettare una cosa, vediamo, oddio, che faccio, ho scaricato questo, sono un coglione, sono un coglionazzo, mi dispiace, ma non posso, non posso rifarla, anche per via di gameplay, cioè, non potrei, ti odio, turtle, dai, ricarica in modo veloce, modo veloce, si può dire? Sì, vabbè, c'è, che cazzo, dai, ma perché, devo sempre succedermi cose brutte, perché sono un scemo, cioè, prima ho fatto bugare un mondo, io, ho quasi fatto bugare un mondo, non so in che modo, però, boh, una cosa è certa, mi devo ricordare di fare il backup della mappa, molto spesso, ok, mi tolgo la creative, levo questo, levo questo, ok, non laggare, smettila, le torce, vabbè, le torce, dai, non siamo, non siamo così morti di fame, siamo la nanna, ti odio, ti odio, ti odio, ah, devo linkare, questo, e poi questo, underpunch, o punch, ok, linkato, mi prende anche un po' di torce, visto che quella stronza di una turtle, mi la, eccomi qua, scusate, allora, se dicevo, non mi ricordo, non mi ricordo, mi ha fatto troppo incazzare quella turtle di merda, fatemelo dire, non mi sono dimenticato niente, spero, perché stanno da più, ottio, che cosa sto raccogliando esattamente, merda, devo, un tube, ma, pipe, mi serve un diamond pipe, che ho preso, il void pipe, ok, il wooden pipe, wooden door, ti odio, non la smetterò mai di dirlo, diamon pipe, le ho ritrovate, non lo fate neanche a scendere, le li butto, 1, 2, 3, 4, poi quell'altro c'è, sì, questo lo posso rimettere là, poi posso buttare, dove sono i pesci, ok, le torce le ho create, le ho creptate, l'ender push, la gravity girl me la prendo, ok, spero che non manchi nient'altro, vabbè, in ogni caso, ah, meglio, non so perché, ma volevo meglio questa, vabbè, 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 allora devo dirle, che nel lato rossa deve portare, di nuovo, a programare questa merda, bone, and, and what the fuck, and arrow, ok, allora, ti dico, nel lato rosso devi portare, ossa, e frecce, e questo lo porta nel mio impianto, nel lato blu porta tutto il resto, che sarebbe tutto il resto, tutto il resto, qua le avevo messi conveyor, ti odio se mi fai cadere là sopra, ok, ok, li avevi messi, li avevi messi, ok, devo prendere, cobblestone, devo prendere uno stacchino, aspettate che butto un po' di roba, che non mi serve, adesso, tu non mi servi, gravity gun, la mettiamo qui, tu non mi servi, facciamo, soft, ti panno scusa, sto reddendo un po' l'inventario perché, è un casino, smetti ai rifletti, sono morti, odio, oggi, tutti, tranne voi, la vediamo, come sono passionale, ok, basta, allora, sì, a posto, più o meno, rimetto sta merda, questo temo che si sia bloccato, che palle, ma perché mi hai mettato a palle, cos'è, così tanto, poi si spegne di nuovo, avete capito? sì, ok, qua, devo, tipo, chiudere, che bello volare, 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 passiamo, sono, mi dispiace, ma la puntata, è praticamente finita, ringraziate questa merda di una tardo, questa tardo di una merda, vabbè, non è che non abbiamo fatto niente, parliamo, vabbè, attiviamo il tutto, vabbè, una cosa la sappiamo, questa farmi sembra funzionare abbastanza bene, cazzo, ne, cazzo, cazzo, volevo dire, diamo un po' il gold, e poi chiudiamo la puntata, perché è finito veramente il tempo, qua è cresciuto qua, ah sì, qua le ho ripiantate tutte, tipo, però non, non crescono, qua non ne ho visto ancora una, ma non è che le sta tagliando, tipo, sì, grazie timer, funziona, Sì, 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 tan 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 tan, è la prima volta che funziona una cosa, no, scherzo, vabbè, oddio, io aspetta, mo' che belle gambe che hai, ok, basta, funziona, funziona anche bene, cazzo, sono contento, ti amo, devo shiftarti, devo shiftare qualcosa, shifterò te, perfetto, ho fatto il mio dovere quotidiano, ok, vediamo un pochino, di spegnere questo, di prenderci l'esperienza, questa farm la sto amando, mi ha fatto perdere 45 libri di esperienza, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, e vabbè, vabbè, io sono, spiega la montata, anche se non si capisce ora, sì, ma che figata questa, armor, sono spiega la montata, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Twitter, Google+, su Facebook, e sul mio sito, spiega la montata, punto X10, punto MX, spero che il video vi sia piaciuto, scusatemi se, è più piccolo del solito, ma vi ho già detto che ho avuto dei problemi, scusate, con questa mappa stessa, bastarda, mi odiano tutti qui, e niente, quindi, sì, niente, ho visto che vi piacciono tanto le puntate, tipo dove metto le parti veloci date con la musica, e quindi non farò meno, non farò meno, non verrò meno, quindi ne metterò, metterò abbastanza parti del genere, in questa puntata non ce n'è bisogno, però vabbè, nelle altre puntate magari ce ne potrà essere bisogno, e niente, insomma, spiegherò tutto, ciao a tutti, ciao!